L'apparecchio DERMA è un apparecchio che emette la radiofrequenza. La radiofrequenza consiste in un flusso di cariche elettriche che nel sottocute vanno a scontrarsi creando un calore. Questo effetto calore fa sì che il tono del sottocute possa essere migliorato e quindi si avrà in superficie un effetto biolifting. Una seduta di rato e frequenza per il biso, collo o décolleté ha una durata all'incirca di 20 minuti. Alla fine di questi 20 minuti il risultato è già visibile. Per avere un risultato duraturo nel tempo il protocollo terapeutico è di 15 sedute a distanza di un mese 25 giorni l'una dall'altra. Questo trattamento non è assolutamente invasivo. Il trattamento è piacevole, si avverte solo un leggero calore, i pazienti escono quasi rilassati. Guardi bene la differenza, questa parte trattata, lo zigomo come è già salito un pochino e questo solco come è già meno profondo. Le rughe sulla destra si sono un pochino attenuate. L'apparecchio della Dermal è un apparecchio elettromedicale, può essere venduto soltanto a studi medici e non si può trovare in studi di bellezza, i quali sì hanno apparecchi per la radiofrequenza ma sono apparecchi depotenziati che non raggiungono mai le potenze di questo apparicchio Dermal. La radiofrequenza è un trattamento che io consiglio un po' a tutti. Quando vedo una persona che esce con il sorriso, che si sente più bella, per me è un risultato vincente.